la vergine maria e il diavolo negli esorcismi di padre francesco bamonte estratto dal capitolo quinto prima parte queste testimonianze sono tratte dai miei ultimi dieci anni di esorcismo selezionate da quei casi nei quali per i segni e i fenomeni preternaturali che si verificavano ero e sono moralmente certo di trovarmi di fronte ad autentiche possessioni diaboliche chi volesse rendersi conto del rigore con cui ho proceduto nel discernimento prima di affermare di trovarmi di fronte ad una reale possessione diabolica potrà leggere in particolare quello che ho descritto nel libro già citato possessioni diaboliche ed esorcismo le esperienze che riporto circa le reazioni dei demoni nei confronti della vergine maria e quanto talvolta obbligati da dio hanno espresso su di lei sono ricavate sia da momenti in cui esercitavo il ministero dell'esorcismo sia da momenti in cui sempre alla presenza del fratello della sorella posseduti proseguivo il confronto con il maligno pregando e invitando i presenti a pregare il rosario e le litanie della madonna oppure proferivo preghiere spontanee di liberazione nulla impedisce infatti caldifuori dell'azione liturgica l'esorcista qualora lo ritenga opportuno possa liberamente recitare in presenza della persona posseduta e soprattutto se ne verifica una particolare efficacia quelle preghiere della pietà cristiana quali appunto il santo rosario le litanie della beata vergine maria come anche la via crucis o la coroncina della divina misericordia o le litanie del sacro cuore o le invocazioni allo spirito santo oppure le preghiere spontanee di intercessione o di liberazione il rifiuto da parte del demonio del progetto dell'incarnazione del figlio di dio e di maria regina degli angeli e degli uomini esempi tratti dagli esorcismi un giorno l'ho sentito gridare io sono lucifero il più luminoso di tutti gli angeli del cielo mi sono ribellato alla volontà di dio perché non ho voluto sottostare alla maestà del nazareno ma andava anche bene di stare sotto la potestà di dio ma al di sotto del nazareno che doveva nascere da una donna non ci volevo stare e allora ho detto o mi fai come te o io combatterò contro di te perché io non mi abbasserò mai mai a un dio che diventa carne umana e che assume tratti umani e corpo umano un'altra volta mentre gli intimavo adoralo è il tuo dio lui ti ha creato adoralo protestò così è andato ad incarnarsi in voi quanto di più schifoso e umiliante potesse fare il ribrezzo che abbiamo provato quando è entrato in quelle carni solo noi lo sappiamo un altro giorno mentre pregavo la madonna ecco le proteste che mi senti rivolgere io sono spirito puro perché non io perché non io spirito puro io spirito puro perché non io invece quella sì perché è è perché quella sì è lei che è una creatura non io io sono dio e lei è stata messa sopra di me perché avrebbe dovuto e io non ho voluto non ho voluto non mi sarei mai piegato alla creatura quella creata per stare giù io spirito puro davanti a dio dovevano adorare me perché loro sono meno di me si riferiva evidentemente alla natura umana di cristo e quella di maria santissima un'altra volta ho sentito queste frasi non sopporto che lei sia accanto a lui al di sopra di me io ero l'angelo più bello 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 il più grande 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 io ero lucifero l'angelo per eccellenza che affronto che affronto concepire senza peccato uno di voi che affronto l'immacolata è l'affronto più grande che il tuo dio ci abbia fatto far concepire uno di voi senza quel peccato che noi abbiamo creato è un affronto insopportabile tutti avevamo marchiato tutti avevamo marchiato con il nostro segno tutti meno lei non doveva farci questo uno di voi senza peccato e poi lui che si incarna nel vostro corpo schifoso fatto di vermi perché l'ha fatto per rovinarci perché ci ha umiliato così tanto perché ci ha umiliato così tanto qui penso che si riferisse alla decomposizione del nostro corpo dopo la morte altre volte con tono sprezzante ha manifestato ancora il suo rifiuto di accettare che la vergine maria fosse stata posta al di sopra di lui con queste espressioni lei è solo carne io sono spirito puro io sono spirito puro no lei no lei più alta di me no io sono spirito in un'altra occasione replicando parole in parte già espresse in precedenza affermò io ho rifiutato quello perché ha fatto lei non sopportavo che lei fosse accanto a lui non sopportavo che una creatura umana fosse al di sopra di me perché io ero l'angelo più bello 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 il più grande io ero lucifero l'angelo per eccellenza una più recente affermazione del demonio da me raccolta durante i giorni della novena dell'immacolata del 2010 mentre eravamo già nel tempo liturgico dell'avvento e la seguente la donna dell'attesa della speranza donna vestita di sole dolcissima madre la donna per amore dei suoi figli è stata creata prima di tutti i tempi nel pensiero di dio e io puro spirito questo non lo posso sopportare quella carne putrida è temuta da noi perché con la sua umiltà ubbidienza infinito amore misericordioso vi tiene in braccio la purezza del suo corpo non è mai stata toccata neanche da un pensiero non ci sono riuscito neanche con un pensiero non l'ho scalfito neanche con un pensiero non uno non uno maledetti non la potevo toccare perché guardava sempre quello c'era sempre quello non è colpa mia non potevo toccarla mi faceva paura qui il maligno non intende dire che non ha mai tentato maria ma afferma che la tentazione non l'ha mai toccata cioè ella non ha mai minimamente acconsentito a qualsiasi forma di tentazione con la quale il diavolo l'ha in vano tentata l'immacolata concezione e la santità sublime e la bellezza incomparabile di maria esempi tratti dagli esorcismi ecco in diversi momenti il demonio che cosa è stato obbligato a dire da dio sulla santità sulla bellezza e sulla totale assenza di peccato in maria un giorno mentre svolgevo l'esorcismo rivolgendomi al demonio gli ho detto guarda il volto bellissimo della madonna e lui ha risposto io non lo vedo è buio è buio è buio per me non voglio e non la posso guardare è la mia rovina è la mia rovina è la mia rovina da sempre da sempre io la odio la odio la odio in altri esorcismi proferì le seguenti espressioni quegli occhi non li posso guardare non li posso guardare non posso non si descrivono quella bellezza non si descrive lei è tutta santa io invece tutto dannato lei è tutta bella e io sono tutto ciò che è brutto lei è cresciuta nella pienezza di grazia io sono cresciuto nella pienezza della morte lei è piena di grazia lei è santa è santa quella è santa lei mi porta via le anime e qui piange guardate 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 la luminosità dello sguardo di un bambino e vedrete la purezza di maria la purezza la purezza e l'amore di maria questa è stata una delle rarissime volte che tra terribili contorsioni ha pronunciato il nome di maria un'altra volta con un evidente linguaggio metaforico non avendo egli nella pelle nel cervello perché spirito immateriale disse ogni volta che scende in questa terra noi sprofondiamo più in basso ogni sua lacrima è un buco nella nostra pelle ogni suo sguardo è uno strappo nel nostro cervello ogni suo passo è la nostra fine stiamo cercando di fermarla non ci possiamo riuscire perché lei è più potente di noi il male non ha nessun potere su di lei qualche giorno prima della solennità dell'immacolata concezione del 2010 mentre lo esorcizzavo il demonio con grande timore esclamò quella donna luminosa in questa stanza allora nel nome di gesù gli ordinai di descrivermela ed egli così si espresse è tutta con il manto celeste che arriva fino ai piedi a una veste completamente bianca a un viso bellissimo il cui sguardo non posso sostenere e vi sorride alle mani giunte a tutta la corona di 12 stelle accesa alla vita a un cordone bianco al quale è legata a quella catena il rosario e su una nuvola e vi sta dicendo state tranquilli io sono qui con voi e vi aiuto anche la madonna è stata redenta da gesù maria è stata redenta come tutti gli uomini ma in modo più elevato e sublime esempi tratti dagli esorcismi una volta il demonio così espresse la continua gratitudine di maria verso dio lei canta sempre le lodi di quello come faceva allora ma solo pochi sulla terra sono in grado di ascoltarla quando canta probabilmente qui il maligno si riferiva alla nostra incapacità di comprendere sino in fondo la grandezza di quel cuore che loda in eterno dio ed è riconoscente per le grazie ricevute non solo a beneficio suo ma anche dei suoi figli a più riprese il demonio ha espresso altre volte ancora tutto il suo disappunto nei confronti del privilegio che maria ha avuto di essere l'immacolata concezione un giorno mentre dicevo al demonio in nome della nostra madre immacolata battene da questo corpo e gli gridò è la parola che odio di più e io ho ribattuto immacolata e lui sì una volta durante la novena dell'immacolata concezione cominciò a gridare mandala via mandala via mandala via in questi giorni tutti la nominano tutti la chiamano tutti dicono il suo nome troppa luce troppa luce troppa luce un'altra volta esclamò l'immacolata è il mio contrario in un altro esorcismo mentre ripetevamo più volte la preghiera o maria concepita senza peccato pregate per noi che ricorriamo a voi il demonio disse smettetela questa giaculatoria è potente contro di me la virginità perpetua di maria esempi tratti dagli esorcismi in riferimento al concepimento virginale di cristo proprio nel giorno della celebrazione della solennità dell'annunciazione con furore il demonio mentre veniva esorcizzato esclamò si è posato su di lei proprio un'ombra e non per modo di dire una vera ombra un'ombra che l'uomo non può vedere non può compiere una non per compiere un atto sessuale no ma per compiere la trasposizione del figlio nel suo ventre dopo il suo sì è avvenuto davvero che si è posata l'ombra dell'altissimo è così che è entrato nel suo ventre il figlio del dio vivente mancavano pochi giorni al natale del 2006 e si discuteva molto anche sull'onda di un film proiettato nelle sale cinematografiche in quel periodo sull'atteggiamento di alcuni teologi i quali in aperta dissonanza con l'insegnamento consolidato e unanimemente accettato dalla chiesa negavano la virginità di maria altri ancora pur essendo questione non ancora definita avevano affermato che la moda onna avrebbe sofferto durante il parto proprio in quei giorni mentre stavamo recitando il terzo mistero gaudioso nel quale si contempla la natività di nostro signore il demonio all'improvviso esclamò quando quello nacque da quella vi fu una luce come quando è risorto la stessa maledetta luce troppo forte troppo forte non la posso vedere non la posso vedere passo dal grembo di quella come passò dal ventre del sepolcro quando risuscitò e qualche giorno dopo durante l'ottava di natale a meraviglia di tutto il creato in una luce che ha illuminato e abbagliato tutta quella grotta è nato un bambino che non ha leso nulla del corpo santo della madre è stato un parto unico al mondo e non ce ne sarà mai più e quella madre con sguardo stupito e lacrime di gioia lo ha accolto con amore indescrivibile e pochi giorni prima del natale 2007 voi non ve lo immaginate lo stupore in quegli occhi con quelle lacrime che scendevano perché non capiva come era possibile che aveva quel bambino in braccio come aveva fatto che stupore che stupore che amore e qui il maligno piange di dolore per il male che gli causava il ricordo della venuta di dio in terra e lo copriva lo copriva perché aveva freddo e lo baciava poi aggiunse con nostra grande sorpresa questa straordinaria dichiarazione sull'amore che dio ha per noi facendosi uomo e venendo a soffrire a morire per noi se solo voi capiste quanto amore ha mosso tutto se voi solo capiste io sarei distrutto se solo ogni uomo ogni singolo uomo capisse l'un per cento dell'amore che ha mosso quello a venire sulla terra io sarei distrutto perché è così grande così grande che voi non ve lo immaginate e io soffro per questo perché lui vi ama che cosa poteva fare di più se non questo che cosa se voi solo lo capiste io sarei morto morto e solo 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 invece voi nessuno ci crede nessuno e io gioisco è venuto ad avvisarvi ad aprirvi gli occhi a dirvi guardate che ci sono io qui vi amo e voi niente ma ve lo siete mai chiesto come ha fatto in 2000 anni questa bastarda di chiesa come la chiamate voi ad andare avanti come fate come fate ve lo siete mai chiesto vi pensate che siete voi iettatori ma che parolaccia come parolaccia fate a non crederci quanto sono contento quanto sono contento siete così stupidi stupidi